Amici di IpsWebTV, si avvicinano le elezioni comunali di Scalea e a tal proposito noi di Ips vorremmo sondare i pareri dei cittadini. Pronti? Andiamo! Secondo lei, come dovrebbe essere il nuovo sindaco di Scalea? Deve essere tutto appassionato al popolo, perché il popolo ama il sindaco. Dovrebbe essere una persona onesta e seria. Pensare un po' al paese e pensare un po' più ai giovani. Onesta, corretta e non solo per lui, per fare le cose solo per lui, per tutti i cittadini da Scalea. Si deve pensare per tutti. Per tutto, onesta. Secondo una persona capace, cose che difficilmente qua si trovano, e sperando che tengono più a Scalea che a tutto il resto. Secondo me dovrebbe essere una persona giovane e soprattutto una persona nuova, nuova, nuova. Beh, alto, occhi azzurri, capelli biondi, non comunista, non fascista. Come dovrebbe essere il nuovo sindaco di Scalea? Beh, dovrebbe avere più coscienza. Dopo tutto quello che è successo, insomma, abbassa un po' di coscienza. Si rende conto anche lui stesso, chiunque andrà, per i problemi che ci sono stati. Il nuovo sindaco di Scalea dovrebbe essere una persona che dovrebbe fare le cose per il paese. Dovrebbe essere un uomo molto intelligente, nel senso di evitare tutti questi incerci, incerci che fanno in politica, evitare la malavita e cercare a rendere Scalea una città dove la gente può stare e vivere tranquilla. La prima cosa, l'onestà. E guarda, io dovrebbe essere soprattutto uno di Scalea, soprattutto di Scalea, perché il forestiere, niente a che fare con il forestiere, insomma, però uno di Scalea che sappia i problemi di Scalea. Intanto una persona onesta, poi che non abbia lo stato del bisogno, una persona umile e che abbia delle competenze, altrimenti non ha senso. Ma io suggerirei di puntare un po' su un elemento femminile, molto sensibile e pulito. Come dovrebbe essere il nuovo sindaco di Scalea? Per Castolano, se no non prendono in considerazione la candidatura. Uno dovrebbe essere un giovane, prima di tutto, escludendo tutti i precedenti. E poi una persona seria e una persona del popolo, che pensa almeno, almeno, almeno qualcosina per il popolo. Una persona molto responsabile per il paese, perché basta guardare e ci rendiamo conto di cosa è Scalea. Secondo me ci vorrebbe una persona nuova, anche che ha le capacità di amministrare come Scalea, che è una cittadina un po' d'ascurata. Credo che dovrebbe essere un sindaco come lo desidereremo tutti. Dovrebbe fare le cose per tutti, ugualianze. Beh, innanzitutto dovrebbe essere una persona che dovrebbe vedere i problemi del paese, vedere ciò che c'è da fare urgentemente, diciamo. Dovrebbe essere una persona capace, avere delle competenze, perché comunque Scalea è un territorio, è un paese che merita. Come dovrebbe essere il nuovo sindaco di Scalea? Allora, innanzitutto onesto, soprattutto giovane, secondo me non più di 30 anni, perché comunque questo paese ha bisogno di una smossa proprio pesante. Una persona, secondo me, è una persona onesta. Dovrebbe essere anche giovane, così riuscirebbe a capire meglio quali sono le problematiche dei giovani. Leale è fare le cose che si possono fare e non promettere nulla. Prima di tutto dovrebbe essere una persona onesta, pensare ai cittadini e non a se stesso. Allora, il nuovo sindaco di Scalea, la prima cosa è che deve essere onesto. Guarda, vedo che sono quasi tutti uguali. Non c'è un'amministrazione chiara, sincera, che potrebbe aiutare il popolo. Dovrebbe essere un sindaco che dovrebbe fare qualcosa per il paese, perché fino adesso per il paese non è stato fatto niente. Come dovrebbe essere il nuovo sindaco di Scalea? Caritevole, solo caritevole e basta. Il nuovo sindaco di Scalea dovrebbe essere, mi auro, che sia dinamico, grindoso, giovane, perché sinonimo di idee. Prima di tutto dovrebbe essere una persona onesta, una persona al di sopra di ogni sospetto e darsi da fare. Perché questo paese ha bisogno di qualcuno che si dia da fare, non di chiacchiere, come sono successe negli ultimi anni. Chiacchiere, noi cittadini siamo stanchi. È un sindaco come Bassallo, il sindaco pescatore, cioè che si interessa essenzialmente agli interessi del paese e poi tutto il resto. Come dovrebbe essere il nuovo sindaco di Scalea? Allora, dovrebbe essere vecchio, basso e grasso. Quale dovrebbe essere il primo provvedimento della nuova giunta comunale? Di parlare con i dipendenti che ci sono lì dentro e mettere a punto tutte le regole. Chi non osserva quelle regole deve essere sbattuto fuori. Penso alla desoccupazione, è più importante. Aggiustare Scalea proprio dall'inizio, perché comunque... Curare Scalea, la prima cosa, curare. Più cose per le bimbi, per scuola. Polizia, assoluta. I turisti sono la nostra ricchezza. Le spiagge devono essere assolutamente salvaguardate in tutti i sensi. Chiaramente puntare un po' su degli eventi per attirare un po' la popolazione. Prende, mettersi lì e dare ordine a tutta la città, tutta la location, tutto quanto quello che riguarda. Una bella pulizia dentro Scalea, strada, normale, normale amministrazione. Secondo me la prima cosa dovrebbe essere cercare di aiutare appunto i giovani, creare qualcosa per loro, fare un po' di pulizia, perché c'è troppa gente che non merita neanche di lavorare, secondo me. Di portare la stagione minimo sei mesi, minimo. Quando dura una stagione? Una stagione degna di un comune turistico. C'è l'imbarazzo che lascia, c'è la sala troppa. Un po' di lavoro per tutti. Ritengo che chi si candida prossimamente a questa competizione elettorale ha la necessità assoluta di sentire le persone che hanno il contatto quotidiano, che sono le organizzazioni sindacali, di categoria, di lavoratori e dei pensionati. Quale dovrebbe essere il primo provvedimento della nuova tutta comunale? Chiudere il comune. Un controllo sociale del territorio, soprattutto durante il periodo estivo. Una rivalutazione quindi del territorio a livello turistico, a livello anche imprenditoriale, quindi sbloccare un po' le risorse e far sì che Scalea possa diventare un centro altamente turistico. Provvedimento, ora non lo so che cosa dovrebbero fare. Certo devono rimettere in zesto tutta l'economia. Beh, probabilmente penso che sia il discorso di poter creare lavoro per i cittadini e di fare in modo che le famiglie siano bene, che non gli manca niente, che non vanno a cercare alla carità da mangiare. Il primo provvedimento secondo me è aiutare anche questi anziani Scalea, di Scalea che non hanno l'assistenza. Io come operatore sociosanitario vedo questo disagio ogni giorno. Parlare in una città come Scalea è una città che amo tantissimo. Vedere il disagio che hanno questi anziani mi fa proprio male. Un po' di onestà, noi non cerchiamo niente. Un po' di onestà e un po' di trasparenza, questo è tutto. Quale dovrebbe essere il primo provvedimento da prendere per la nuova giunta comunale? Non rubare. Non rubare. Amici di PSWebTV, abbiamo riscontrato dalle nostre interviste che i cittadini a cui abbiamo posto le nostre domande cercano un sindaco onesto, giovane e dinamico e che pensi soprattutto alla polizia e all'arredo urbano. E per ora è tutto, qui da Mr. Whistle per PSWebTV e alla prossima! Grazie a tutti!